1 al termine del primo tempo, il gol di Vierkovu dal ventesimo minuto per il vantaggio della Sampdoria, pareggio di Pistini al venticinquesimo sempre di testa, Amarassi non si è ancora ripreso a giocare, le squadre sono ancora negli... Riprende la linea Amarassi, il tiro e il gol di Evani, primo gol di Evani in questo campione, attaccano ancora i blucerchiati, Evani l'autore del gol del 2-1, il cross per Amoruso, la palla in rete, 3-1 per la Sampdoria al quarantasettesimo, al novantaduesimo dunque C'è stato un cross di sinistro di Evani, il tocco di testa di Amoruso